BLP Ferramenta di Ancona non finisce mai di stupire. Apre i colori dell'arcobaleno, un nuovo punto vendita a Iesi. Colorare o decorare la tua casa sarà bellissimo. Pittura, decorativi, carta da parati, vernici antimuffa con garanzia, tre tintometri per creare il colore che vuoi, spettrofotometro portatile per sopralluoghi gratuiti. Da BLP e dai colori dell'arcobaleno, solo in meglio. Come i prodotti Seekens di qualità ed eco sostenibili, i prodotti Airball, Max Mayer, Sivac. Ferramenta BLP ad Ancona via Brecce Bianche 97 e nuovo negozio I colori dell'arcobaleno a Iesi via Fiume 10 barra A.